Il nuovo molo nord di Pescara non sarà solo una passeggiata sul mare che correrà lungo lo sbocco del fiume, ma una parte di un progetto più ampio che garantirà una migliore fruibilità del porto della città adriatica da anni alle prese con problemi di insabbiamento e dragaggio. I lavori per la realizzazione del cosiddetto secondo lotto, che avranno un costo complessivo di 12 milioni e 700 mila euro, sono stati presentati in conferenza stampa con la firma del contratto di aggregazione delle imprese che realizzeranno i lavori, come spiegato da Giuseppe Savini, presidente dell'Arap, l'agenzia regionale per le attività produttive. Questo mese abbiamo firmato l'appalto con l'aggregazione di imprese che è Sales in mare Conducci, che a tutti gli effetti determina l'avvio per il secondo lotto, che prevede la rifinitura del molo nord, che renderà il molo nord fruibile, come la camminata che esiste ora. Poi da questo secondo lotto, per cui è previsto l'avvio dei lavori dentro l'estate del 2024, parte poi la terza fase, che è quella che ha in mano il sistema dell'autorità portuale di Ancona e dell'Italia centrale, per quanto riguarda poi la rifinitura invece della banchina sud per la deviazione del porto canale. Per quanto riguarda il primo lotto, abbiamo finito la posa degli scogli, che è la base per questo secondo lotto, per la rifinitura, e quindi c'è solo da ultimare il pennello di foce, che è il pennello che si vede qui nella foto, che va a proteggere il porto canale. Diciamo che su questo lotto siamo in due anni di anticipo. L'Arap come viene coinvolta in questo progetto? L'Arap è soggetto attuatore di tutte le attività ad oggi in capo alla regione Abruzzo. Chiaro che il terzo lotto, che non è finanziato, sarà cura dell'autorità portuale, perché si stanno definendo anche il reperimento dei fondi, per poi andare a ultimare l'opera con la deviazione dell'asse fluviale. Il nuovo molo nord sarà anche punto di attrazione turistica, che accoglierà trabocchi e ristoranti, è dichiarato il sindaco di Pescara Carlo Masci. Per Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, l'importanza dell'opera va letta anche in termini di contenimento dei rischi alluvionali del fiume Pescara, che con i due nuovi moli sarà accompagnato nello sbocco più a largo. L'obiettivo dei lavori, per il governatore Marco Marsilio, è non soltanto potenziare il porto e trasferire all'esterno tutta la darsena commerciale. I pescherecci non staranno più nel porto canale, ma ci sarà a sud del molo sud un nuovo approdo per i pescherecci. Non si viverà più un continuo problema del dragaggio e dell'insabbiamento del porto canale, quindi è un passo avanti importante per la portualità abruzzese, che fa il paio con tutto il lavoro che si sta facendo. Anche a Tortona e a Vasto, ricordo che proprio di recente è stato abbandito l'appalto per l'ampliamento della banchina di Vasto per permettere l'arrivo del binario del treno. E lo stesso a Tortona con i bandi che il commissario Miccio ha attivato per l'ultimo miglio stradale e ferroviario e per potenziare i collegamenti dei porti.